Un vasto incendio ha interessato un capannone industriale situato in località Serroni di Battipaglia. Le fiamme hanno distrutto gran parte dell'area. Le cause, stando ai primi di rievi, sarebbero puramente accidentali. La struttura infatti era tutta in legno ed il vento, nella notte fra il 24 e il 25, avrebbe alimentato notevolmente le fiamme. Esclusa la pista del Dolo, vista anche la presenza di un allarme anti-intrusione di ultima generazione. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Battipaglia e la protezione civile di Battipaglia, diretta da Michele Mattia.